Brambilla, ma le pare possibile che per una settimana imprenditori che hanno già effettuato lavori, hanno già emesso fatture, devono stare su un piazzale in presidio permanente a urlare le loro ragioni per farsi ascoltare? Per avere i soldi da un altro imprenditore? Per avere i soldi da un altro imprenditore, è tutto un tema tra imprese, i cattivi e buoni sono lì dentro, caro Brambilla. Allora, purtroppo nella dinamica imprenditoriale lo scontro tra di solito grande imprese e piccole imprese non è una novità, voglio dire. Noi subiamo come piccoli imprenditori spesso il potere contrattuale che hanno le grandi imprese nei nostri confronti. Questo, ahimè, è parte del gioco, però nello stesso tempo sono fiducioso che la situazione si risolva e che questi miei colleghi, che sono una settimana che sono lì a fare il presidio e mi complimento con loro perché non è un gesto comune per gli imprenditori avere la forza di scendere in piazza e metterci la faccia e quindi sono orgoglioso di loro qui dal nord, lo dico non in modo retorico, complimenti, bravi e dobbiamo fare in modo tale tutti che questa vicenda si risolva nel modo più logico e sensato possibile. E applaudiamo anche noi in studio. Progresso e salute possono andare assolutamente d'accordo se ci fosse una programmazione politica degna di questo nome, se ci fossero delle politiche industriali degne di questo nome. Essendoci il vuoto preumatico da parte della politica italiana, appunto dal 2001, basta vedere quel cartello drammatico, perché se nel 2001 fosse arrivato già Industria 4.0 e sia quegli imprenditori, prima ancora dei Riva, che era dello Stato la Cieria fosse stato detto, guarda, tu investi nel progresso, rendi questo impianto già nel 2001 degno di questo nome, che non inquini più, eccetera, noi oggi non saremmo qua a discutere di queste cose. È che in Italia non si programma niente, non si pianifica niente. Come si risolve il problema, caro Cramaschi? Come fai a dire un imprenditore, vai là lo stesso? Gli devi creare dei vantaggi. Vuoi investire in un momento... Però non può essere lo scudo penale. Si chiamano fiscali, si chiamano vantaggi fiscali. Può continuare a avvelenare la gente. No, fammi finire di parlare. Scusate, hai parlato 30 volte oggi. Sentiamo Santanchè, scusatemi, ho camminato benissimo Brambilla. No, perché voglio arrivare per il coraggio di dire una cosa alla signora Sabrina. Spero che la mia onestà intellettuale venga apprezzata e non paia come al solito cinico e freddo. Signora Sabrina, c'è un piccolo dettaglio. Sa quanti mariti purtroppo in giro per il mondo nelle acciaierie stanno morendo per produrre l'acciaio che viene in Italia? Allora, se vogliamo essere uguali... Me lo dice a me che ho perso mio padre e me lo dice a me che ho perso mio padre di 39 anni. Sabrina, lo sto dicendo a lei per dire attenzione che quando chiudiamo Taranto l'Italia importerà acciaio da tutto il mondo perché non possiamo fermare l'Italia. L'acciaio che viene prodotto all'ILVA serve a tantissime industrie italiane. Noi importeremo acciaio inquinato da tutto il mondo, moriranno tanti altri mariti e noi faremo gli ipocriti perché è l'importante che non sporchiamo casa nostra. Questo non è giusto a livello mondiale. Se noi guardiamo a livello mondiale il tema... E vabbè, allora magari ce la teniamo noi. Ormai ce la teniamo noi perché ormai... No, in centenia... Sabrina, l'abbiamo detto. Sono d'accordo con Sabrina. No, l'abbiamo detto Sabrina. Immotiviamo l'imprenditore in modo sano. Aspetta, se no... Immotiviamo l'imprenditore in modo sano.